Ciao a tutti collezionisti e collezioniste e benvenuti su Lele King TV con quest'altro figo pronostico ragazzi questa volta andiamo a pronosticare Torino-Roma e Fiorentina-Juventus partite soprattutto decisive per la zona Europa qui si gioca l'Europa League e la Conference League Roma che nell'ultima giornata è stata fermata dal Venezia per 1-1 una partita incredibile in cui la Roma ha preso 4-5 legni adesso non ricordo bene e ha fatto una quarantina di tiri verso lo specchio della porta del Venezia e non è riuscita a vincere la partita ha preso il gol subito ai minuti iniziali e via dicendo invece la Fiorentina viene da una sconfitta pesante contro la Samp che non aveva niente da chiedere a questo campionato e la Samp riesce a vincere per 4-1 il Torino viene dalla vittoria fuori casa contro il Verona la Juventus ha la partita contro la Lazio ma la partita contro la Lazio si sta giocando in questo momento che sto registrando la partita ancora sullo 0-0 al sesto minuto quindi non sappiamo ancora come andrà a finire però è ininfluente perché la Juventus ha consolidato il quarto posto non ha ambizione per arrivare terzo perché il Napoli gli dà 6 punti attualmente con il pareggio che sta avendo contro la Lazio quindi è impossibile per la Juventus raggiungere il Napoli quindi è quarta in classifica detto questo ragazzi vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella anche perché così non vi perdete i prossimi video perché poi il prossimo video sarà Lazio-Verona e Atalanta-Empoli sempre per quanto riguarda la zona Europa e dopodiché ci sarà quello dello scudetto tra Inter e Sampdoria e Sassuolo-Milan quindi per non perdervi questi video dovete iscrivervi al canale e attivare la campanella è gratis e non se paga niente poi se volete avete la possibilità sia di fare una donazione sotto i video che di abbonarvi al canale ma quello soltanto se volete e se potete altrimenti il canale è completamente gratuito e poi il prossimo campionato ragazzi rinizieremo con gli altri video io direi di iniziare 5 bustine per primo tempo 5 bustine per il secondo tempo iniziamo a fare questo pronostico della zona Europa fischiamo l'inizio dei match prima bustina vediamo cosa succede nella prima bustina e abbiamo subito il Torino in vantaggio con Beriscia mannaggia la vupazza Beriscia la figura di Beriscia per l'1-0 del Torino e subito 2-0 con gol di Ansaldi questo significa avere già la testa alla finale di conference per la Roma stare sotto nei primi minuti per 2-0 poi abbiamo l'Atalanta abbiamo della Juventus Bentancur ed è 0-1 tra Fiorentina e Juventus cioè praticamente in Europa non ci vuole andare nessuno però la Fiorentina pareggia subito 1-1 con Benuti incredibile ragazzi prima bustina boom 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 su 5 figurine abbiamo messe 4 2 del Torino una Fiorentina e una della Juventus scusate per la tosse ragazzi mai successo in una bustina queste di calciatori perché poi sulle score è molto probabile trovare tante figurine delle stesse squadre ma mamma mia ragazzi andiamo ad aprire la seconda bustina se anche la seconda è così se anche la seconda è così ragazzi no la seconda non c'entra niente è della Samp è caputo poi 3 giuratori del Cosenza dell'Atalanta Zappa del Cagliari e Lobotka del Napoli andiamo con la terza bustina Ranieri della Sernitana Lazovic del Verona Rabiot per la Juventus Juventus 2 Fiorentina 1 Chabot della Samp e gli stemmi della Serie C Latina Calcio Messina Monopoli e Monterosi andiamo col quarto pacchetto siamo quasi a fine primo tempo sta vincendo intanto il Torino e la Juventus Simone Inzaghi allenatore dell'Inter Marchetti del Genoa Shumurodov il giocatore della Roma ed è 2-1 Roma che accorcia le distanze con Shumudorov poi troviamo Immobile della Lazio e Ismaili dell'Empoli ultima bustina per questo primo tempo vediamo cosa succede tre giocatori del Lecce Lecce Neopromosso Pussetto dell'Udinese Vignato del Bologna Scrignar dell'Inter e lo stemma dell'Atalanta fischiamo la fine primo tempo andiamo a commentare i risultati perché Certorino che sta battendo la Roma 2-1 e la Juventus sta battendo la Fiorentina 2-1 quindi con questi risultati rimarrebbe la Roma a 60 la Fiorentina a 59 quindi la Lazio sarebbe matematicamente in Europa League e l'Atalanta se dovesse vincere andrebbe sopra alla Roma e sopra alla Fiorentina con questi risultati adesso continuiamo col secondo tempo fischiamo inizio il secondo tempo vai ragazzi si inizia vediamo cosa succede aprendo la sesta bustina questo figuro nostico troviamo a Schildensen della Samp tre giocatori del Perugia qui troviamo questo dovrebbe essere dello Spezia poi troviamo la Maglia del Sassuolo e il giocatore dell'Ellas Verona ok andiamo con il settimo pacchetto Michel Veloso dell'Ellas Colibali della Sernitana Gasperini allenatore dell'Atalanta Stemmi della Serie C Albinoleffe Ferrapil Pisalò Fiorenzuola e Giana e Stragoscia della Lazio andiamo con l'ottavo pacchetto ormai siamo agli sgoccioli Cambiaso del Genoa tre giocatori del Crotone la formazione dell'Ellas lo stemma del Frosinone e Petro ex giocatore della Roma attualmente alla Lazio nono pacchetto ragazzi nono pacchetto i risultati non si sbloccano non si sbloccano Alexis Sanchez poi ci abbiamo Ola Aina del Torino ed è 3 a 1 per il Torino ragazzi è come trema nei mani ma è cascata la figurina 3 a 1 per il Torino contro la Roma Gio Petro del Cagliari Vacca del Venezia e ancora Torino con l'Inetti 4 a 1 per il Torino mamma mia ragazzi certo una sconfitta così sarebbe pesantissima cioè significherebbe veramente andare a affrontare una finale di conferenze con un morale sotto le scarpe poi abbiamo Luciano Spalletti ACPRO della Lazio tre giocatori dell'Ascoli Herlich dello Spezia e la Maglia del Napoli fischiamo triplice fischio finiscono qui i match ragazzi la Roma secondo questo figo pronostico perderebbe 4 a 1 contro Torino la Fiorentina perderebbe contro la Juventus praticamente il divario fra Fiorentina e Roma rimarrebbe invariato quindi Roma a 60 e Fiorentina a 59 la Lazio sarebbe automaticamente in Europa League se l'Atalanta dovesse vincere ma questo sarà il prossimo pronostico contro l'Empoli a quel punto l'Atalanta andrebbe in conferenza ok andiamo a vedere cosa succederà nel prossimo figo pronostico quindi non perdete velo domani ciao a tutti prendete a tutti tintine cioè varita vedete .